amici e amiche di rockamble sono come sempre ben ritrovati ragazzi eccoci qui proprio dove ci avevamo lasciati la volta scorsa lasciamo adesso la torre qui di propaganda e andiamo appunto quassù a vedere che cosa ha in servo per noi dobbiamo girarci quindi 180 gradi e poi andare in giù cosa ha in servo per noi questo è bisogno di far cry 4 allora occhio aia occhio piano perfetto perfetto proprio quello che volevo andiamo allora scale perfetto salve puttana che tramvata poi se dopo aver scoperto questo posto qui adesso andiamo a vedere cosa sarà ancora non ci ha sbloccato le missioni principali andremo allora salve andremo allora alla porca miseria questo qui fa sul serio ci stanno pure inseguendo sto stronzo di merda scendo guarda che adesso mi ero tipo di... ecco qua perfetto vai dicevo e se ancora non ci ha sbloccato dopo questo questo giretto che facciamo qui in questa missione ancora non ci ha sbloccato niente e il segue uccide chi sta caricando merda l'h3 non è niente l'armata reale ci sta attaccando abbiamo combattuto duramente per conquistare l'avamposto ora lottiamo per difenderlo perfetto guarda che ci curiamo anche c'è l'avamp... aspettate ehm... l'evento karma me lo dà? si perfetto ok torniamo indietro allora dove stavamo andando? qua su dov'è qua ad andare di qua eh? si ahia che cazzo andiamo eh stiamo... andiamo di fare... ecco si stiamo facendo un po' di puttanate questo è maledette ok andiamo di qui ma che cazzo dov'è? c'è sempre qualcosa piante e alberi stiamo andando dalla parte giusta? spero si abbiamo perso l'avamposto? di mio scusate ma abbiamo perso l'avamposto? no no non l'ho protetto ma non l'abbiamo neanche perso bom bom salve ok ora arricchiamoci laggiù non dovrebbe essere neanche troppo lontano ormai poi con questi quad qua viaggiamo abbastanza velocemente vale ha rallentato dolcemente devo tagliare un po' la curva qui ci vorrebbe un po' di farming eh? un po' di farming simulator su sti posti eccoci qui allora oh porca la puttana vabbè lasciamo perdere che è che sta arrivando? porca puttana è duro eh ok ora non più senza faccia non parla vabbè quello era l'altro camion va bene andiamo allora cos'è? che posto è questo qua? salve oltre quel ponte c'è il territorio di Pagamin ho sentito dei suoni strani come delle esplosioni si vabbè ok posso entrarci? o? no non ancora cioè non mi fa entrare non mi dice niente ok in sostanza siamo arrivati qui per un cazzo quindi possiamo anche recarci allora andiamo qui spostamento rapido andiamo qui e andiamo giù alla a battere quella missione di propaganda che è tostissima è veramente tosta sostanzialmente dovremmo distruggere delle delle infrastrutture che ci sono dentro ok allora adesso un attimino compre personalizza intanto ci prendiamo tre di queste la corazza pure intanto abbiamo soldi quindi possiamo usare i mercenari non vengono mai in sti casi qui piuttosto la scorpion ci prendiamo la mettiamo al posto di questa si non si possono personalizzare però almeno armi uniche va bene munizioni ok perfetto per cazzo dall'uscita di qua perfetto allora apriamo ci sono anche un po' di missioni secondarie ma quelle ci premeranno in un secondo momento ora andiamo ci concentriamo su questa missione secondaria che è molto molto più complessa ok ragazzi eccoci qui all'avamposto dovremmo distruggere un bel po' di cosette noi come sempre ci proviamo poi sarà molto dura però bisogna farlo secondo me questa è una missione fondamentale perché se no non ci fa andare avanti nel gioco ok vedete quella barra gialla dovremmo distruggere un bel po' di robine una volta che quella barra gialla si sarà riempita avremo finito però continueranno ad assalirci sempre più numerosi e sempre più grossi ii inizio 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 dove sono tutti salve ok adesso arriveranno un po' dove era? non era qua? è stato in casa è entrato ok va bene così ok ora quindi dobbiamo finire di abbattere questi qui ok questo l'abbiamo abbattuto adesso qua porta ah no qui dobbiamo ok è rimasto qualcosa però questo questo qua mi sa esatto è rimasto un po' di roba ancora vai queste cose qui non si distruggono tanto facilmente vedremo come distruggere più avanti vedremo se c'è dell'esplosivo qualcosa andiamo anche sopra sopra sono un bel po' di roba da distruggere ok non serve un cazzo ecco qua stanno arrivando pesanti rinforzi adesso ragazzi guardate guardate voi quante macchine stanno arrivando guardate quanto sono duri tra l'altro ok ricarica questi sono tosti da battere perchè corrono ok forza ok 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 guardate 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 ma che altro è possibile che abbia finito i colpi e di questa pure ho finito i colpi bene ragazzi abbiamo finito i colpi di tutto il problema di sta missione tra l'altro ok perfetto adesso possiamo prenderci il suo armone per quello però abbastanza tosto allora come si faceva per mettere la granata al plasma e vai vediamo perfetto attenzione sta arrivando un altro mezzo saliamo dobbiamo sedere qua su è l'unica perché da qui abbiamo sostanzialmente siamo parati via 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 crevata ah prendetelo salgo copritemi le spalle ok dove sei andato guarda adesso ti trovo guarda perché non vieni fuori guarda vediamo dove cazzo sono forza dai ok ok va bene va bene ok puttanega questa qui la sentiamo la sentiamo carica perfetto ok voglio vedere se ci sono delle armi per noi si perfetto oh ok adesso quindi andiamo con questa arma qua no ok non me la fa mettere adesso non so perché perché forse è troppo pesante e allora ste stampanti qui vanno un po' abbattute ok ok vanno ancora qualcosa qui e mo chi arriva mi manca qualcosina di così porca miseria quanti sono sti qua ok ok ahia ok ok via ok ce n'è uno qui così oh porca la puttana quanto è grande uno di quelli corazzati merda ah no è morto si possiamo prendergli un bel po' di roba a sto corazzato qua esatto esatto ci manca qualcosa qui ci manca non capisco cosa sia ok ok abbiamo anche delle granate abbiamo anche delle granate da saccheggiare sto cretino qui e sto mezzo qui che è da saccheggiare dice che manca qualcosa scusate adesso vediamo perché dovrebbe bruciare esplodere magari ok oh ce l'abbiamo fatta ragazzi al primo colpo anche ma che che lusso deve esplodere un po' meglio perfetto perfetto sono contentissimo adesso si mi danno la mia arma al posto di sto coso qua che non lo voglio più ci ha sbloccato un po' di robe vediamo cosa ci ha sbloccato qua ancora bloccato qui così vabbè insomma abbiamo fatto un po' di cosette abilità qui quanti ne abbiamo? due ancora qui l'incegno partirà qualcuno lo spegnerà comunque ci siamo qui vengono i nostri amici allora noi che siamo qui in zona mappa potremmo 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 eheheh olonginus qui nella fortità di deplore devo completare altre missioni principali purtroppo però ancora non me le da le missioni principali quindi rimaniamo ancora un po' fregati perchè di qui così è tutto fatto qui si forse c'è l'era di pagan ma con calma si può fare c'è questa scorta armata qui poi qui sotto è tutto a posto eh ci sarebbe la la caccia disinfestazione e la caccia scorte e poi andando un po' in su la scorta armata allora potremmo fare questa scorta armata qua giù potremmo fare a sto punto prima di salutarci che dite? scorta armata scorta e proteggi un carico sospetto per il sentiero d'oro fino al luogo della consegna incaricata ah vabbè ok ok mi suona sospetto ah ok ci sto vorrei vorrei poterti dire di più vorrei poterti dire di più ti invio le coordinate arrivo porca miseria vai abbiamo le ruote anche bucate va dettaglio puttana intanto mi mi frego da solo si muove solo quando sei a bordo fantastico ok l'armata distrugge il nostro patrimonio religioso per rinforzare la visione di mine di un kirat moderno è una follia vedi i tuoi vicini che distruggono gli stessi templi in cui pregavano c'è un orto in fiamme sulla strada difficile perché il camion si muove la bella notizia è che abbiamo finito i colpi qui aspetta ma non abbiamo altre armi no dammi questa eh che cacchio perfetto qualunque altro posto è più sicuro un commerciante d'arte ci ha offerto un mutuo senza domande con le statue come garanzia vedo una cassa di munizioni scendi e prendi ne un po' se ne hai bisogno perfetto è arrivato l'elefante abbiamo un problema lì davanti ok munizioni ok ma fai in fretta aia che cazzo era una fregatura era non era qualcosa per le munizioni era una fregatura qualunque altro posto è più sicuro un commerciante d'arte ci ha offerto un mutuo cosa difficile è che il camion si muove vedo una cassa di munizioni scendi e prendi ne un po' se ne hai bisogno dammi questo dammi porta la puttana abbiamo un problema lì davanti bravissimo l'elefante fermi qua fermi 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 ok ma fai in fretta dov'è il camion? qua giù dovremo far riparare il camion se sopravviviamo ma porca miseria ma tutte volte che apriamo il triangolo mi va non ci siamo non ci siamo il camion non può resistere a lungo va riparato dove cazzo è che devo ripararlo? cioè ripare vediamo carichiamo mentre sali magari esatto così ci muoviamo intanto puoi ricaricare? perfetto bravo ti pareva con un ritardo mostruoso però sei pronto? il gioco inizia a farti duro vaffanculo tutte volte bravo un triangolo devo rallentare per passare ecco come evitiamo il trattico nel tirac perciò dai forza eh ok pure ancora Amita e Saval non sarebbero mai stati d'accordo quindi abbiamo preso noi l'iniziativa la storia del kirat non deve essere in guerra con il suo futuro così possiamo finanziare il sentiero d'oro e preservare la cultura ok perfetto questo è dei nostri dove ci porti? siamo arrivati? si ok sembra di essere arrivati munizioni ok perfetto adesso abbiamo anche delle abilità abbiamo 3 punti abilità quindi attenzione possiamo spendere un bel po' di cosette allora oh qui medico da campo se rimani senza siringhe curative tieni il premuto triangolo per curare manualmente due unità di salute cazzo questo si che è utile oppure siringa sopravvivenza a livello 2 oltre agli effetti normali ora subisci meno danni anche dalle armi da fuoco anche utile di là cosa abbiamo sei in grado di spostare i corpi dei devastatori non mi interessa ora puoi cambiare arma e mirare le due molto più velocemente subito dopo un abbattimento diano il premutale per afferrare e spostare il corpo premiare 3 per attaccare da sotto io farei questo qua ok praticamente cura a mano due tacche direi che è ottimo perfetto ragazzi da dire che per questo episodio può bastare così siamo andati forse anche troppo per le lunghe io come sempre vi ringrazio e vi do appuntamento nei prossimi episodi lasciate un like e condividete ci vediamo alla prossima ragazzi un cordiale saluto da Roccambolesco